e no, organizzi la riunione, la riunione è stata organizzata dal mio comitato noi risponderemo alle domande arrivati qua che va a fare un prevedivo di un impianto di risalita senza voler arrivati a chi posso rispondere di fermetere di rispondere? prego, mi permette di rispondere di rispondere di rispondere di rispondere visto che la lavora su una grande impianto, non posso permettere di rispondere su grandi impianti loro hanno tre alternative, penso che non hanno detto una costa 18, una costa 21, una costa diciamo 24 milioni hanno fermato, come il signore di Antipropo ha detto se voi mi fate andare da qui a Piantone come hanno fatto con il mio dotto da Piantone mi fate andare a Lovro e da Lovro diamo la picca con 24 milioni signorini arriviamo a Piantone però siccome la prima linea che hanno fatto, che secondo me il comune di Gran Gratino passare sul ponte qui, dallo Stelvio salire, sarà 24 milioni vi ha sperato Grazie. Grazie.